Dieci giorni fa Londra ha festeggiato i cento anni della donna segata a metà, rimuovendo la parola donna dalla celebrazione. Anche The Guardian parla di people in half, persone a metà. Certo, le donne sono persone. L'intervento chiave è stato quello di Naomi Paxton, che ha ricordato la stretta parentela tra la battaglia femminile per il diritto di voto e questa illusione da palcoscenico, nata come risposta maschile alle richieste delle suffragette. Prima di segarle in due, noi maghi facevamo sparire le donne. Nel mio libro Mesmer, la zona del crepuscolo, racconto la storia della donna invisibile, un'illusione nata a Parigi nel 1800. Il pubblico dialogava con una bara di vetro vuota, dove si diceva esserci una fanciulla resa invisibile da una pozione. Ella in realtà restava chiusa per ora in stanzette minuscole e dialogava con i presenti parlando dentro un tubo. Per farci un'idea della vita che facevano quelle assistenti, possiamo leggere la storia del mago Severino, raccontata da Hoffman. Da quando ha scoperto che Chiara è più sensibile dopo aver sofferto, la frusta senza pietà prima di magnetizzarla e per meglio di simulare il trucco agli occhi dei creduli, abitua la ragazza a trascorrere intere giornate in un armadio senza dire una parola. La porta con sé durante i viaggi chiusa in una cassa nella quale ella riesce a malapena a respirare. Uno di questi maghi si chiamava Charles e nel mio libro racconto la vita di sua figlia. Ersilia Rui era nata a Milano e a 40 anni divenne davvero invisibile quando la famiglia se ne liberò chiudendola in un manicomio. Ersilia raccontò il dramma in un diario usando il proprio sangue come inchiostro e non farò spoiler sul suo destino, ma nel libro la racconto perché è una storia di ribellione all'oppressione maschile tra le più epiche in cui mi si è imbattuto. Tutto questo è più vivo che mai. Caroline Criado Perez ha intitolato il suo ultimo libro Donne Invisibili, mostrando il modo sistematico con cui oggi il punto di vista femminile viene rimosso dal racconto e dall'analisi della realtà. Il risultato è una società costruita a immagine e somiglianza dei maschi. Volete un esempio? Ieri ho ascoltato questa intervista. Per più di un'ora si parla di un libro meraviglioso senza mai nominarlo e sapete perché? Perché l'ha scritto una donna. La donna invisibile di questa intervista si chiama Valentina Tanni e il suo meme estetica è un libro fondamentale se vi occupate di magia. L'autrice mostra come YouTube, Instagram e TikTok hanno messo a disposizione di tutti la possibilità di fare arte. I memi, le gif animate e le challenge sono la nuova avanguardia artistica in grado di mettere in discussione il monopolio delle gallerie e dei musei. Meme estetica è utile per orientarsi nel dibattito sull'illusionismo contemporaneo perché se un tempo era la televisione ad eleggere i suoi campioni, oggi i social network hanno messo un palcoscenico a disposizione di chiunque, con prospettive che io trovo infinitamente stimolanti, ma molti coetanei vivono come un trauma e un sacrilegio. Vi segnalo solo tre delle storie più folli raccontate in queste pagine. Hyperreal CG è un sito di immagini realizzate in computer graphics. È pazzesco il livello di dettaglio raggiunto dai moderni software. Questa immagine, per esempio, ha richiesto sette ore di rendering. C'è un solo inghippo. Non è vero. Non è vero che sono immagini fatte al computer. Sono fotografie tradizionali che questo sito fa passare per computer graphics. È un cortocircuito assurdo davanti a cui Tanni si chiede, siamo ancora in grado di distinguere un'immagine genuina da una manipolata? Un'immagine sintetica da uno scatto fotografico? E quanto ci interessa ancora questa distinzione? Per noi che ci occupiamo di mentalismo, il rapporto tra realtà e simulazione è un tema fondamentale. Cursed Images è una collezione di immagini dal contenuto misterioso e disturbante. Rappresentano situazioni difficili da interpretare che possono far sorridere, inorridire o semplicemente disorientare. Questo bambino, per esempio, sembra un millepiedi. La mia ipotesi è che sia una fotografia panoramica scattata mentre il piccolo gattonava, il che dimostra che ogni novità tecnologica lascia sempre aperto uno spiraglio attraverso cui il bizzarro può manifestarsi. È un tema che la magia corteggia da sempre. Magic di Hopkins, il più importante trattato illusionistico dell'Ottocento, lo dichiara in copertina che i trucchi fotografici fanno parte dell'arte magica. Hopkins spiega come realizzare una foto in cui un uomo decapitato sta per mangiare la propria testa. Su meme estetica, lo stesso uomo è ritratto sul divano. La cosa inquietante nelle foto maledette è che spesso non c'è alcuna intenzionalità ed è come se la realtà avesse letto Magic si divertisse a spaventarci con i suoi trucchi spontanei. E poi c'è il panino con il mondo di Ze Frank. Come spiega Tanni, se due persone che si trovano agli estremi opposti del globo terrestre appoggiano a terra una fetta di pane, l'intero pianeta diventa idealmente un ripieno. Nel 2006 è stato realizzato il primo panino di questo tipo, documentando in due video la posa di mezza pagnotta in Spagna e mezza in Nuova Zelanda. Colleghe e colleghi maghi materializzano di continuo monete o biglietti da visita al centro di mazzi di carte. Non vedo l'ora che qualcuno faccia apparire al centro del mazzo l'intero pianeta. Come fare credo sia ovvio. Bastano questi tre esempi per capire che un libro come questo può renderci illusioniste migliori. Grazie Valentina.